è accaduto che si è confermata l'esistenza di un altro tunnel quindi di un'altra cavità all'interno della grande piramide sulla piana di gizza le questioni ci sono al momento perché perché sappiamo bene che il professor malanga aveva fatto degli studi aveva usato una tomografia con un lidar con una tecnologia particolare e aveva proprio detto questo confermato l'esistenza di un tunnel all'interno della piramide e quindi comunque non solo l'ultima notizia questa che sta dando risalto mondiale al tutto è che zaghi awas che molti pensano lo sia ancora invece non lo è più zaghi awas non è più ufficialmente il stavo per dire tesoriere come si dice comunque era il massimo egittologo ministeriale nella comunità egiziana questo lo è stato per tantissimi anni ora ovviamente ancora un pezzo da novanta come si dice ma non è più lui il ministro dei beni archeologici eccetera eccetera è un altro ciò nonostante appunto zaghi awas ormai no è il portiere della piana di gizza quindi vedete che anche in televisione c'è sempre lui eccetera e infatti ha annunciato lui la scoperta di questo tunnel e tra le altre cose malanga diceva stasera ovviamente a un certo punto non hanno più potuto tenere la questione perché appunto e i giapponesi e mei e malanga la cosa era uscita fuori però adesso ovviamente a chi ha fatto le ricerche termine tecnico proprio rode il fatto che non vengano attribuite ma non è di questo che voglio parlare io la notizia era che invece qualcuno adesso ha pagato fior di soldi per affittare per un lunghissimo periodo e quindi sostanzialmente è chiusa al pubblico la piramide questo sembrerebbe essere anche adesso e qui mi verrebbe da aprire subito una parentesi sul perché è importante perché alla fine uno si può anche a parte gli scienziati studiosi coinvolti che ovviamente vogliono avere la paternità del lavoro che hanno fatto e questo si capisce ma a livello mondiale alla popolazione perché uno che si chi se ne frega uno potrebbe dire hanno trovato un nuovo tunnel in quel vecchio monumento vabbè cosa cambia al mondo questo ecco questa è una parte che io in realtà approfondirei perché forse ci fa capire tante cose e lì si accennava verso la fine nella live tra malanga e mei uno mi sono sognato una domanda che hanno fatto ecco per esempio addirittura così vi racconto anche per chi non l'ha vista la live appena che sta termina che è appena terminata mei e malanga verso la fine amabilmente come dire ehm discordavano su un punto cioè l'uno diceva ecco anche io ho aggiunto no adesso che stanno che hanno tenuto chiusa la piramide l'uno diceva è perché probabilmente già sapevano perché si è parlato del del fatto delle scusate le parentesi dell'esistenza di un filmato già ancora più vecchio di tutte queste ricerche che in realtà mostrava filmato su pellicola proprio un video vecchio realizzato dove mostrava evidentemente questo cunicolo e quindi tra i due ricercatori dicevano probabilmente già sapendo l'esistenza di questo filmato stavano cercando proprio questo cunicolo ecco perché hanno visto che altri al mondo ci sono arrivati e hanno dichiarato pubblicamente la notizia in verità su questo tipo di argomento non esattamente sull'interno della sfinge ma su scusatemi della piramide ma sull'interno della sfinge ci sono documenti addirittura più vecchi ossia addirittura ecco poi io vi dico ho avuto la fortuna di passare una ventina di giorni visitando tutto l'egitto da sopra sotto e come potete immaginare curiosando parlando anche con la gente del posto in realtà lì moltissimi di quelli che abitano hanno il padre il nonno che abitavano davanti alle piramidi come succede poi nell'antica roma sappiamo che c'è spessissimo una città sotto la città per dire non vi faccio il nome ma un caro amico si è trovato direttamente ad avere la proposta dal egiziano di turno dicendo guarda che io direttamente dalla mia cantina che abito a x metri dalla piramide sei settecento metri ho dei tunnel che ti posso portare questi chiedevano ovviamente un certo compenso fino all'interno della sfinge questo veniva detto quindi queste storie girano a parte questo nei primi del novecento vado a memoria ma era il millenovecento uno uscì sui giornali anche sui quotidiani la notizia che un archeologo aveva esplorato l'interno della sfinge potete andare a cercare si nuota ancora benissimo una toppa sostanzialmente quadrata di cemento sulla testa della sfinge che è stata messa in tempi recenti anche se forse da venti trent'anni ma insomma di recente le foto più vecchie se continuate la ricerca trovate addirittura dei beduini che invece appunto foto dei primi del novecento millenovecentodieci venti vedete proprio il beduino che entra a metà al cioè che che sporge fuori dal cunicolo ci sono foto addirittura in cui zaya was spunta da sotto perché se osservate la sfinge e se siete stati in luogo sapete che dietro alla sfinge ci sono delle finestre a partire diciamo dal dal terreno che danno in delle cavità più interne che ovviamente sono chiusa al pubblico ma ci sono dei video in cui zaya was entra con tutto il corpo in quelle stanze insomma addirittura dicevo a quel tempo millenovecento uno sul giornale andò non proprio una foto ma la rappresentazione grafica degli schizzi che aveva disegnato l'archeologo in quel momento e questo venne poi fatto per bene sul giornale e se vedete quell'immagine c'è proprio uno spaccato della della sfinge come fosse tagliata a metà e viene descritto proprio una serie di corridoi in discesa che portano una grande sala con colonne e vari androni eccetera 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 e se tanto mi da tanto potremo rifarci all'unico testo e all'unico personaggio che si è accreditato letteralmente perché ancora no c'è l'idea assurda per alcuni che ci sia una tomba della piramide quando sappiamo benissimo che non lo è scusate ora questa è molto schematizzata davvero molto però serve per avere almeno una minima idea di quello di cui stiamo parlando e cioè l'ipotesi che appunto non essendo una tomba che cosa potrebbe essere qual era l'utilizzo di queste gigantesche strutture poi pure lì fatemelo ripetere perché veramente abbiamo una comprensione magari no del tutto a livello globale noi individuiamo sempre come l'egitto il paese delle piramidi quando in realtà ce n'è un 110 130 a secondo delle misurazioni sappiamo bene che i confini odierni dell'egitto non sono gli stessi se andiamo in sudan e troviamo più piccole e anche con un'angolazione diversa in realtà anche molto meno complesse ma troviamo moltissime strutture piramidali di forma però appunto tenetelo a mente diversa e di dimensioni diverse sempre a cluster cioè a gruppi stessa cosa in egitto quindi raggruppati in una certa maniera ve lo dico meglio per farvi capire dove voglio andare a parare raggruppati evidentemente nello stesso anche dalla stessa cultura nello stesso paese in alcune location geografiche specifiche cioè sulla piana di gizza hanno deciso di metterci in un tot poi più giù lungo il nilo a luxor no insomma dove sono la saccara e quello che è e poi più giù lungo il nilo in alcuni punti casualmente non a caso vicino all'acqua e sappiamo che l'acqua arrivava più vicina sappiamo che al tempo la piramide era ricoperta da uno strato di calcare bianco è descritto ovunque ce ne sono ancora minime tracce ed è accettato da tutta la comunità scientifica sappiamo che appunto era non adesso la vediamo quasi a gradoni in realtà era perfettamente liscia perché c'erano appunto inseriti questi inserti non della pietra di gizza ma di semplice calcare anche più facile da lavorare molto più morbido e bianco che quindi dava come descritto questo aspetto scintillante ma non è solo questo sono andati a fondo nella ricerca e hanno visto che sono andati addirittura più lontano nell'estrazione del calcare per prendere un particolare tipo di calcare pieno anch'esso di quarzo che aveva delle particolari caratteristiche di non solo di conducibilità ma quindi proprio anche di isolamento dall'esterno quindi questo tipo di calcare particolare che è stato scelto di usare riusciva a trattenere all'interno l'energia che veniva sviluppata un altro particolare poi sappiamo che appunto anche adesso non lo vediamo più ma in passato c'era il piramidio cioè c'era quella parte la punta della piramide che è sempre stata descritta e forse per quello non ci si trova più ma è stata descritta come essere stata fatta in oro ora non possiamo sapere se letteralmente in oro pieno o rivestita in oro ma anche lì comunque c'è la certezza che quindi era bianco calcare con delle particolari capacità piezoelettriche con una punta di oro la punta di oro sappiamo che loro anche lì è enormemente conduttore è incorruttibile quindi rimane a lungo eccetera e viene utilizzata anche oggi ne proprio nei collegamenti che riguardano tutte le attrezzature elettroniche per le sue capacità ideali di trasporto di questa energia e quindi loro che cosa hanno pensato sostanzialmente nelle due camere venivano fatti entrare i vari sali che quando producevano quando poi al momento da loro voluto del rilascio producevano la reazione tra di loro andando proprio a generare gas in enorme maniera cioè in enorme quantità il gas costretto in questi cunicoli e quindi gli i condotti diciamo non possiamo chiamarli shaft i condotti che non raggiungono l'esterno servirebbero proprio da valvole per sempre utilizzati da loro per eventualmente comprimere e decomprimere la portata della pressione però la pressione sarebbe quindi andata a riempire quei vani in maniera dirompente no quindi i muri stessi dei di quelle camere interne avrebbero ricevuto un enorme botta di perdonatemi il termine di pressione e quindi anche da lì loro si appoggiano ad un fatto hanno scelto un materiale che è il calcare per l'esterno un materiale che è quello con cui è stata fatta tutti i blocchi della piramide che è comunque in realtà un composto molti sono giunti a questa conclusione invece sappiamo bene che per le camere centrali hanno utilizzato un altro materiale un granito di tanti tipi di granito che esistono che nella fattispecie si presenta rosso granito rosso che ha una caratteristica anch'essa molto specifica che è quella di essere pieno cioè avere enormi quantità all'interno di quarzo che cosa accade quindi che cosa sarebbe accaduto nel caso di un'esplosione di materiali chimici tra loro mescolati in quelle stanze l'enorme pressione avrebbe portato il quarzo presente nel granito a produrre l'effetto piezzo elettrico quindi a produrre enormi enormi quantità di elettricità statica che sarebbe stata immagazzinata per andare a finire proprio eventualmente verso la grande la punta in oro quindi questo è secondo loro un meccanismo uno dei meccanismi nei quali la piramide con cui era utilizzata la piramide quantomeno per generare in questo caso energia elettrica e vi stavo dicendo prima potremmo veramente perderci ore a raccontare i dettagli che sono stati scoperti per esempio vi dicevo prima il fatto che fosse un cluster cioè che sono ancora oggi a cluster cioè a raggruppate a piccoli gruppi qui e lì probabilmente non è casuale c'è chi ha addirittura associato l'immagine geografica la piantina no delle delle varie piramidi alle schede elettroniche con i vari chip proprio presupponendo che tutte le piramidi insieme agissero all'unisono per creare un network una rete che sviluppa energia questo molto probabilmente è ipotizzabile perché in tantissimi punti del pianeta troviamo questo e anche perché è stato visto che e questo ormai alcuni ricercatori lo stanno proprio dimostrando esiste una correlazione tra la struttura e il posto in cui viene costruita cioè gli antichi molto probabilmente lo sapevano molto più lunga di noi pensate a tutte le strutture indiane in cui ce li hanno proprio rappresentati i mandala che adesso sappiamo essere senza ombra di dubbio rappresentazioni cimatiche cioè forme non allegorie non rappresentazioni la vera essenziale forma di una energia in quel da nella sua manifestazione per cui vi dicevo la particolare forma serve proprio a fare sì che i flussi energetici che ci sono per natura nell'universo vadano a reagire attraverso cioè vadano a reagire all'impatto con questa forma e che è in un certo senso capace di trattenerle un pochino più a lungo il materiale influisce nella misura in cui fa massa ho sentito dire insomma ultimamente c'è veramente chi ne spara la qual sia sì la massa o meglio il peso specifico non è la gravità o due concetti completamente diversi professori come malanga e altri anche nassim maramein sta stanno giungendo alla conclusione che la gravità con qualche cosa che forse ha più a che fare addirittura con la coscienza che non altro però sicuramente influisce sui flussi energetici la massa in un certo senso influisce sicuramente sullo spazio tempo questo lo sappiamo già da ancor prima di einstein che però lo ha spiegato bene quando c'è una massa molto grande e noi siamo nella sfera di gravità letteralmente di quella massa il tempo scorre in maniera diversa che se siamo in uno spazio aperto